Spazio, comfort, modularità e tecnologia ma anche sportività e passione come quelle che trassuda la nuova Renault Clio RS18 che ci ha raggiunto nei nostri studi insieme al nostro ospite di oggi. Buonasera, buonasera anche da parte mia in un mondo dell'automobile dove si parla sempre più spesso di tecnologia, di comfort ma anche di mobilità sostenibile c'è spazio ancora per la spassione, per la sportività e il modello che abbiamo portato qui oggi in studio rappresenta ancora devo dire molto in tal senso. Prima di andarlo a scoprire insieme vado a salutare il nostro ospite di oggi Francesco Fontana Giusti, direttore di relazioni esterne di Renault Italia che ringrazio di essere qui con noi. Buonasera Francesco. Buonasera a te e buonasera a tutti i telespettatori. Con Renault abbiamo tracciato tutti questi argomenti in questo periodo però non può mancare anche anche questo aspetto, testimone decisamente fondamentale per affrontarlo è la vettura che abbiamo in studio. Francesco parliamo della Renault Clio RS18, un concentrato di sportività veramente a 360 gradi. Sì questa è una vettura di serie sportiva, ricordo che è l'auto straniera più venduta in Italia, la Clio, negli ultimi cinque anni, dunque è una vettura di successo su quale abbiamo messo il motore sportivo, la livrea sportiva e diventa una RS, una vettura estremamente competitiva, la RS18 che appunto è stata realizzata dal centrale per tutti i paesi, perché qui si parla di motorsport e di Formula 1, dunque veramente è un prodotto diciamo globale. E cosa cambia? La livrea, la livrea che ricorda la nostra monoposto per celebrare i 40 anni in Formula 1. Ecco, quando siamo di fronte a questi modelli chiaramente le numeriche non sono poi così importanti, qua parliamo veramente di vetture che devono far sognare, devono proiettare anche l'automobilista verso un certo tipo di concetto. Come avete lavorato da un punto di vista di numeri, quante diciamo vetture sono previste per il mercato italiano, come vi siete organizzati da questo punto di vista? No questa è una serie limitata nel tempo purtroppo, però non ci sono limiti, noi ne vendiamo, ne vendiamo anche perché questa vettura che è basata sulla Trophy, dunque la versione più sportiva in assoluto, parliamo di un 1.6 turbo 220 cavalli e tantissima tecnologia che arriva dalla Formula 1, con questa livrea costa 30.750 euro, dunque è anche molto accessibile, la venderemo. Ricordo anche che il design è il primo motivo d'acquisto e lo è ancora di più su una serie speciale come questa, una serie che appunto ricorda che il motorsport fa parte del DNA di Renault. All'interno abbiamo questo badge numerato, abbiamo il volante in pelle, i sedili in pelle, il volante anche in Alcantara, dunque ci sono tanti accorgimenti che danno questo look decisamente sportivo ma sotto il cofano c'è anche tanta tanta sostanza. Come vi aspettate che venga accolta dal pubblico italiano una vettura di questo tipo con questa livrea così anche, direi anche così aggressiva? Noi pensiamo bene, anche perché come dicevo prima il design è il primo motivo d'acquisto, dunque è una vettura decisamente molto sexy, come vedete questo nero del monoposto, questa fiancata con il duplice diamante grigio e la scritta RS18, questi piccoli tocchi sulla lamina stile Formula 1, sulla parte laterale, sui cerchi, questo giallo appunto della Formula 1 è una vettura di serie con un look da Formula 1, dunque veramente secondo me può attirare, può attirare anche tutta la tecnologia che c'è all'interno che arriva dalla Formula 1 e qui mi riferisco al launch control, la partenza da fermo, mi riferisco all'RS monitor che permette di appunto quando sei in pista di andare a guardare tutti i dati delle tue performance, c'è l'RS drive con tre modalità di guido fino al race, insomma ci sono tante tante cose, tanto look tecnologico, sportivo, da competizione ma anche tanta sostanza all'interno della vettura. Francesco hai citato diversi equipaggiamenti che redono davvero particolare Clio RS18, ce n'è uno però che ha destato la nostra attenzione che vorrei analizzare con te, mi riferisco all'RS Vision, di cosa si tratta? È un sistema di illuminazione che include vari tipi di luci, sempre a LED, cornering, luci di posizione, luci di profondità, si vede anche sulla parte frontale questa luminosità a scacchi che ricorda il mondo del Honospor, dunque subito riconosci la firma luminosa di Honospor e dunque della competizione. È un sistema che appunto include un po' tutti i sistemi di illuminazione e permette anche una bellissima illuminazione notturna. La base ovviamente è quella della Clio, io aprirò un attimo una parentesi, perché Clio chiaramente per voi rappresenta, come dire, un modello di vendita a cui fare riferimento non solo in casa ma anche diciamo all'esterno. È una vettura che resiste anche nel tempo. È una vettura che è stata autostrania più venduta in Italia per cinque anni consecutivi, dunque. Il design di Lorenz van den Hacker accolto nel segno, questo design più latino, più vicino al gusto italiano. Ma diciamo che il successo di Renault in generale, e Clio diciamo è la prima vettura più rappresentativa del nostro mondo, è un abbinamento tra design sensuale ma anche tanta tecnologia, tecnologia che sia accessibile e che permette di migliorare la vita a bordo. Torniamo un attimo sulla versione che abbiamo qui in studio, la RS18 che celebra peraltro la concomitanza con un anniversario importante per Renault, che sono i 40 anni di presenza all'interno del mondo della Formula 1. Allora, due domande su questo tema. È chiaro che dalla Formula 1 voi avete potuto non solo attingere in termini di visibilità ma anche di sviluppo tecnologico, su questo non c'è dubbio, oltre chiaramente ai risultati sportivi. Quindi la possibilità di sperimentare da una parte, dall'altra la possibilità di fare brand e di creare immagini. Pensi che ci sia stato un ritorno adeguato rispetto a quello che avete investito, rispetto a quello che avete fatto anche in termini sportivi? Allora, intanto la tecnologia che arriva dalla competizione, abbiamo parlato prima, il launch control lo trovi in Formula 1. Tutte quelle, la telemetria, tutte queste cose, lo trovi proprio nel mondo della competizione. Portarlo su un prodotto di serie, secondo me, attira anche il giovane appassionato che vuole guidare la vettura sexy sportiva. Dall'altro canto, a livello immagine, è chiaro che noi adesso abbiamo puntato su due campioni, che sono Hülkenberg e Sainz, su una vettura sempre più competitiva. Usciamo dalla Formula Elettrica per investire ancora di più sulla Formula 1, lasciando però la Formula Elettrica nell'alleanza, perché passa a un nostro cugino, e puntiamo sulla Formula 1 perché la Formula 1 è un mezzo di comunicazione importante a livello globale, e parlo più di mercati emergenti che di mercati europei. Questo ci permetterà chiaramente non solo di continuare a travasare la tecnologia dalla competizione ai veicoli di serie, ma anche di comunicare questi nostri successi. Il nostro obiettivo è chiaramente quello di tornare sul podio. Assolutamente. Vi ricordo 12 titoli costruttori, siamo stati 12 volte campioni del mondo in Formula 1, dunque non siamo gli ultimi arrivati. Assolutamente, assolutamente. Abbiamo iniziato la nostra chiacchierata con una premessa importante, in questo settore, in questo mondo delle quattro ruote e delle auto, si sta spostando sempre di più verso degli orizzonti green, verdi, ecologici, vetture che sono a emissioni zero. Ti chiedo una visione. Modelli di questo tipo, come appunto la Clio RS18, tra dieci anni avranno ancora motivo di esistere dal vostro punto di vista? Io non ho la palla di cristallo. È chiaro che la passione secondo me continuerà, che sia in una forma piuttosto che un'altra, questo è difficile dirlo. È chiaro che i concept che Lorenz van der Nack ha rappresentato negli ultimi due saloni, che sono la Symbios, che è una vettura 100% elettrica, 100% connessa e 100% guida autonoma, oggi è difficile viverla come passione, perché tu dici come fai a vivere la passione senza guidare, però puoi vivere la passione in modo diverso, come anche Easy Go, questo robotaxi che abbiamo presentato a Ginevra, che è proprio il futuro dell'automobile, secondo noi appunto l'elettrico, la connessione e la guida autonoma. Il motorsport chiaramente vuol dire passione, potrebbe avere una forma diversa, è difficile dirlo, dieci anni sono tanti, Alessio. Certamente vedremo cosa ci riserverà il mondo delle quattro ruote nel futuro, chiaramente il nostro intento sarà quello sempre di seguirli con grande attenzione e con grande passione. Un saluto quindi e un ringraziamento a Francesco Fontana Giusti, direttore relazioni esterne e comunicazioni di Renault Italia. Buonasera a tutti. E noi proseguiamo pure con i servizi di Safe Drive.